Dottor Petrella, ci sono novità, arrivate il 9 di questo mese per il Centro Oncologico di Campli. Sì, c'è stata la novità, cioè l'aggiunta, il Consiglio Comunale di Campli, il 9 aprile 2004, ha approvato il cambiamento di destinazione urbanistica. Del terreno. Del terreno. Adesso deve essere pubblicato sul Bura, devono trascorrere 15-20 giorni, presenteremo il progetto già finito e si può iniziare la costruzione. I tempi quali saranno? Allora, iniziamo la costruzione, quindi entro maggio. I tempi saranno brevissimi, come già li ho detto in altre occasioni, perché ci stanno i soldi e quindi quando ci stanno i soldi si fa presto. Ma voglio fare appello al futuro candidato della Regione Abruzzo di... Al futuro Presidente. Al futuro Presidente, vero, della Regione Abruzzo all'aggiunta, di annullare, abbrucare la legge 32, 31 luglio 2007, che riguarda le strutture sociosanitarie, che per avere le altre autorizzazioni bisogna rispettare 10-11 degredi. Lei già nel 2000 aveva organizzato un incontro dove erano venuti degli studiosi di oncologia. Riprenderò contatti con questi studiosi e loro saranno con noi a Campli, quindi a Terramo.